La ventottesima domenica del tempo ordinario ci propone la terza parabola che l'Evangelista ha raccolto per testimoniare il dramma del rifiuto di Israele. Abbiamo già ascoltato nelle domeniche precedenti la parabola dei due figli incentrata sul problema di Giovanni Battista. Domenica scorsa la parabola dei vignaioli omicidi ha messo l'accento sul figlio che viene ucciso dai vignaioli. La terza parabola racconta un invito a pranzo di un re che fece un banchetto di nozze per suo figlio. È chiara l'immagine allegorica. Il re è Dio, il figlio del re è Gesù, il banchetto di nozze è la festa messianica che accompagna l'evento della venuta del Messia. A questo banchetto di nozze gli invitati non vogliono partecipare. Anzi bastonano e uccidono coloro che portano l'invito. Coloro che vanno a dire tutto è pronto, la mensa è imbandita, vengono offesi ed eliminati. È un comportamento esagerato. Al di là della parabola emerge il dramma storico che culmina addirittura nella distruzione della città di quelli che erano stati invitati. È un modo per far riferimento alla distruzione di Gerusalemme avvenuta nell'anno 70 dopo Cristo e quando l'Evangelista Matteo scrive la distruzione di Gerusalemme c'è già stata e nell'ottica dell'Evangelista diventa un argomento forte per dire come la città che ha rifiutato il Messia Gesù si è messa fuori della storia della salvezza e il suo tempio è stato raso al suolo. Ormai non ha più utilità, è finito il suo tempo. Dunque questa parabola mette l'accento sul dramma di coloro che seguono Gesù, cioè i suoi apostoli. Chi l'ha preceduto è stato rifiutato. Gesù è stato rifiutato, chi lo segue verrà rifiutato. È una situazione tragica che si ripete sempre in riferimento a Gesù e gli apostoli che portano l'invito a nozze si trovano davanti un muro di rifiuto. I primi invitati non accettano ma entrano degli altri, sono tutti i popoli a cui è rivolta la possibilità della salvezza. Entrano tutti i tipi di persone nella sala del banchetto, lo dice espressamente l'evangelista, buoni e cattivi. Il re però entra a visitare gli invitati e trova uno senza l'abito nuziale. Lo chiama amico, non è un termine affettuoso, è un termine anzi abbastanza di staccato, non è philos in greco, è taire, gli dice. Corrisponde ad un modo di dire nostro simile a ehi tu, è un amico con un tono pesante di rimprovero, con quale faccia sei entrato qui? come ti sei permesso di entrare senza abito nuziale? E quello non ha niente da dire, perché l'abito nuziale rappresenta la vita buona, la vita coerente, la vita cristiana, corrispondente al dono di grazia. L'invito alle nozze è gratuito ed è la proposta della salvezza offerta dal Signore. L'abito è l'abitudine, è il proprio modo di fare, di pensare, di agire e se non c'è l'abito nuziale vuol dire che c'è l'abito brutto, sporco, vuol dire che c'è un comportamento negativo. Non si può entrare nella sala del regno senza l'abito nuziale. L'evangelista sta dicendo con serietà non basta entrare nella Chiesa per essere sicuri di essere salvi, perché si può essere buttati fuori. Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto estridore di denti. Pensateci bene, perché molti sono chiamati, cioè la chiamata è universale, ma pochi gli eletti, cioè quelli che accettano l'invito e vivono in modo coerente all'invito ricevuto. La prima lettura ci propone un'altra scena di banchetto. È un testo tratto dalla cosiddetta Prima Apocalisse di Isaia. È un testo appunto di genere apocalittico che parla degli ultimi tempi e paragona il momento escatologico ad un grande banchetto. Il Signore preparerà un banchetto eccellente a cui inviterà tutti i popoli, eliminerà la morte, asciugherà le lacrime e ridarà la vita. A questo banchetto sono invitati tutti i popoli. È il banchetto di cui parla Gesù. È il banchetto della fine dei tempi. Gli invitati alle nozze dell'agnello. Siamo noi, sono tutti gli uomini, ma pochi sono gli eletti. È un piccolo gruppo che accetta veramente ciò che richiede quel banchetto. Il Salmo 22 è lo splendido testo del pastore, ma viene scelto soprattutto per la seconda immagine. nella seconda parte del Salmo, il pastore diventa un ospite accogliente che prepara una mensa davanti ad un profugo che sta scappando inseguito dai nemici. Mi accogli nella tua tenda, mi imbandisci una mensa, versi olio sul mio capo, riempi di vino il mio calice e allora ho deciso di rimanere nella tua tenda per sempre. Il Signore ci invita a pranzo a casa sua e desidera che noi rimaniamo con Lui per la lunghezza dei giorni. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai cristiani di Filippi, parla del proprio atteggiamento di uomo forte, coraggioso, capace di affrontare le difficoltà. Tutto posso in colui che mi dà la forza. È una espressione centrale, importante. La forza del cristiano viene da Cristo e se Cristo mi dà la forza io sono in grado di fare tutto. Posso affrontare tutte le difficoltà. Posso vivere, dice Paolo, nella povertà e nell'abbondanza, nella sazietà e nella fame. Se c'è da mangiare sono contento e mangio, se non ce n'è ho la forza di farne a meno. Chi accetta l'invito e veste l'abito noziale assume una forza eccellente e affronta la difficoltà della vita con la serenità, il coraggio di San Paolo.